Ciao a tutti! Abbiamo comprato in edicola queste quattro bustine del nuovo set, io in realtà ne ho già aperte quattro, con risultati abbastanza scadenti. Questi qua sono i nuovi Pokémon di settima generazione, no? Le posso scegliere come sempre, quale aprire. Ok, fammi vedere quale è più carino. Questo che cos'è? Ah, questo sarebbe l'evoluzione dello starter di acqua. Questa è femmina, lo vuoi? È femmina? È femmina, vedi, ce n'è? Io voglio questo, che l'evoluzione di acqua, questo è mio. Questo è questo, quasi tu. Ok, vai. Avrò questa, che è più bella. Mi piace questa, che è più bella. Io ne ho aperte quattro. Eh? Non c'è delle carte che dire ignobili e poco. Perché tu sei sforzionato? Eh, vediamo se stai fare di meglio. Comunque l'hai comprati tu, quindi... Che c'è? Ah, qua il trick è un po' diverso. Come devo fare? Eh, non lo so. Vabbè, proviamo... Fai sempre tre così. Progliere almeno un machine. Tre. Ah. Vabbè. Da qua hanno cambiato un po' il layout della carta, visto? Diverso. Quella lascia stava nel gioco. Sì, stava nel gioco. Ah, finalmente una citazione, anche tu. Una citazione, perché c'è la sosta del gioco. Tre va diratta da quello di Pokémon GO, tipo. Sì. Questa è la forma di Alola. Ah. Della nuova regione, vedi, in Scuritano. Mm. Cos'è il cappellino forma di Alola? Aspetta, questa è la rara. Sì. Ah, questa è la rara? Vedi, mi hanno cambiato, stanno di qua. Il nuovo... Ah, ecco, ecco, ecco. Ah, cazzo. Vabbè, non le trovo a te, ecco. È il film. Aspetta, quindi a che posto stava? Vabbè, è troppo tardi. Devi fare cinque. Sì, vabbè. Devo aprire l'altra. Ok. Vediamo che cosa puoi fare. Già che hai fatto una citazione, già è una domenica epica per tutto il mondo dei Pokémon. Eh, mamma mia. Esagerato. Per tutto il mondo dei Pokémon. Per tutto il mondo dei Pokémon. Certo. Assecondiamolo con le cavolate. È un piccolo passo per te. Eh. È un grande passo per tutto il mondo. Certo. Stai impazzendo tu ultimamente? Erano quattro allora. Ah, è sbagliatissimo. Però, wow, bellissima. Erano quattro. Adesso io sinceramente non so come funziona la rarità, no? Le altre non le facciamo vedere, vale bene. Però questa dovrebbe essere tipo... Questa è l'evoluzione di Eevee. Sì, di Eevee, esatto. Però, vedi, non ci sono più le iX, ma ci sono le GX. No? Però questa qua, essendo tutta bianca, non so adesso come... È shiny. No, non è shiny. Dovebbe essere tipo iper. Non lo so com'è. L'aggianto. Non lo so perché non mi sono molto interessata a questo set. Boh, non lo so. Comunque so che è rara questa qua, così. Vabbè, le altre... Mi è giocobaleno. Sono meno interessati. Devi fare quattro a lui. Metapod. Wingle. Snubbull. Uh, hai visto? Poi hanno cambiato pure le reverse. Stanno fuori, non dentro. No, no, mi piace che stanno fuori dentro. Vabbè, non te lo chiedono. No. Lasciamo stare. Ok. Credo che il reverse significhi quello, però. Ok. Ci sono arrivato dopo. Aspetta, fammi cosa questa qua. È tutto in armato. Tu non hai visto niente. Non avete sentito niente. Aspetta, chi è che lo faceva? I pinguini di volatrice. Eh, i pinguini. Che citazione. Allora è quattro, sei sicura? No, secondo me non è quattro. Sì, e sii felice quando prendi qualcosa. Aspetta, ho coperto. Vai. Sii felice. Sì. Esulta. Ah, quattro hai detto. Sì. Robiamo il cellulare, eh? Ok. Il tuo, però. No, il tuo. No, no, no. Di sera. Oh, ti assomiglio questo qua. Ma quando mai? C'è la stessa faccia, guarda. Ecco, l'altro assomiglia a te. A me. Oh, i fratelli di campagna. I capelli. Si chiamano i fratelli e i cugini di campagna. I cugini. I cugini. I fratelli di campagna. I cugini. Oh, che bello. Ma sono corretti con questi capelli? No, era anche una scena. Sì, sono una scena. Poverini. Quelli già erano brutti. Questa è molto tagliadino d'angelo. È la Raffaella Carrano. È la Raffaella Carrano. È una holo. Ultima. Vabbè, sono andati bene questa volta. Sì, sì, io. Ma se l'ho sbussata io. Giusto di me non prenderesti nulla. Ma se l'ho sbussata io. Ma quanto vai? Ma sei zitto. Ma devo bruciarlo, meno male che è tutto filmato. Sì, è tutto filmato. Abbiamo tutto sotto... Tutto su tela. Esatto. Tela. Dico pure esatto. Abbiamo tutto su tela. Codice. Come tu le hai riprese. Non fai neanche ridere. Come le fai tu le hai riprese, non le fai nessuno. Sì, no. Che energia è questa qua? È una palla. No, dai, impegnati. È nera. Un'energia oscura. Beh. Veramente? Sì, la scurità. No, sono un genio. Hai visto questo qua? Sandcast. Che cos'è? Un castello di sand? È un castello di sand. È un caverino. Quello che abbiamo visto è il Pokemon Godra Team. Due ore fa. Wishy-woshy. Sei il Pokemon di Antonio. È bivore. Vabbè, questa è una citazione che non... Posso capire un po'. Va bene. Vabbè, siamo andati bene perché abbiamo trovato quell'Espion stranissimo. Ho trovato. Abbiamo. Cioè, i tuoi video sono inutili senza di me. Come hai detto, le carte le ho comprate io. Quindi abbiamo. Almeno abbiamo. Ho detto, se non usciva niente è perché le carte le hai comprate tu. Ecco. Va bene. Così funziona. Certo. Sì. Saluta. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.